ci sono due momenti cruciali nella storia della televisione della musica italiana che ci permettono di conoscere i kraftwerk e lo fanno in maniera piuttosto bizzarra il primo 1978 televisione italiana rai 1 domenica in so che siete già spaventati ma non preoccupatevi alla conduzione c'è corrado corrado mantoni che ai suoi ospiti momenti musicali con la solita platea di ospiti che arrivano da tutta italia non ci sono queste committive che dai pensionati di orbetello al dopolavoro di chissà quale azienda i personaggi popolari della musica italiana ma del costume della televisione si susseguono e corrato da un buon capo della trasmissione li introduce al suo pubblico poi succede una roba assolutamente incredibile che per noi che a quell'epoca non avevamo molta scelta ricordo bisogna sempre immaginare che non ci fosse internet aspettavamo che qualcosa succedesse nella televisione e in quel momento qualcosa succede in modo pazzesco cioè tra gli ospiti appunto magari degli sceneggiati che sarebbero passati il sabato sera in prima serata appaiono quattro tipi tedeschi con camicia rossa cravatta nera che eseguono un pezzo che parla di uomini che sono macchine ma la cosa più incredibile è che dopo quando vengono in un certo modo intervistati da corrado sono seduti in mezzo appunto ai pensionati di orbetello a chissà chi altro e sono dei manichini si vede che sono dei manichini ma si vede più o meno perché anche quando i craftwork si sono esibiti facendo la loro canzone we are the robots siamo i robot non si capisce bene se siano esseri umani o replicanti ma quelli seduti sulle sedie sono davvero replicanti perfetti sembrano esattamente loro hanno delle cravate con una sottile luce rossa che va su e giù e corrado incredibilmente l'intervista ha un doppio pelto beige elegante nella sua romanità e gli chiede qualcosa se sono contenti di essere lì e loro a turno cioè anzi i manichini a turno dicono we are the robots siamo dei robot quindi che cosa succede nella televisione ingessata italiana qualcuno sta intervistando dei robot dei manichini esattamente così e noi tutti i ragazzi dell'epoca sobbalziamo sulle poltrone di quelle domeniche ingessate piuttosto noiose di fine anni 70 poi questa 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 anomalia questa follia succede quando siamo già un po più consapevoli nel 1981 a disco ring che era una trasmissione classico dove venivano invitati gli ospiti a suonare rigorosamente in playback per la maggior parte dei casi le hit dell'epoca e c'è jocelyn che era un presentatore di quegli anni con un suo fantastico accendo con suo fantastico accento francese e un gilet che sembra in realtà uno di quei tappetini delle case di periferia dove c'è scritto benvenuti consumato dal dai piedi che ci sono passati sopra ma al netto del suo gilet dice ecco qua i kraftwerke le kraftwerk anzi con il loro hit pocket calculator e dice che eseguiranno una versione omaggio per l'italia di pocket calculator e la canzone è ad un certo punto loro dicono sono l'operatore del mini calculatore che già di per sé è fantastica la traduzione italiano di un tedesco rigoroso cioè dei kraftwerk di quella canzone ma la parte che io preferisco ancora di più dice se io spingo un bottone lui fa una gazzone ora al netto del luogo comune del tedesco che ci può inquietare e al netto di questa frase abbastanza inquietante di per sé devo dire che questo è il segreto del kraftwerk cioè se io spingo un bottone lui fa una canzone il bottone lo spinge un uomo c'è un kraftwerk e la canzone che lo fa la fa macchina la macchina che è una macchina per lo più ideata dai kraftwerk stessi e allora come prima in quella domenica in folle in cui non riconoscevamo l'essere umano dal manichino anche qui non sappiamo più se è l'uomo che produce la canzone o è la macchina ideata dall'uomo a produrla ma a toglierci dall'imbarazza sono i kraftwerk stessi che dicono noi suoniamo alle macchine e le macchine suonano noi che è fantastico tutto il concetto ritorno appunto musica che è sintetica non è in più musica fatta con gli strumenti che conosciamo ma sono strumenti elettronici perché i kraftwerk sono coloro che inventano sostanzialmente elettronica o quantomeno prendono elettronica e la mettono all'interno del corredo pop che tutti noi conosciamo facendo appunto canzoni anzi canzoni se vogliamo dirla all'accento crucco mi si perdoni di quella tradizione quella traduzione della della loro canzone ora la domanda che soprattutto quando apparirono di fronte al doppio petto beige pettinato di corrado era ma chi sono questi è molto semplice tutti abbiamo una nozione dei kraftwerk ma loro si formano nel 1970 questo nome che in lingua tedesca significa centrale elettrica ha già un'idea di produzione di produzione musicale ma anche di lavoro di macchina che è un concetto estremamente teutonico ma è un concetto molto forte che loro elaborano nel tempo all'inizio e cambieranno molte formazioni dei kraftwerk ma diciamo che i due elementi fondamentali solo florian schneider e alf hutter ecco loro due iniziano a fare una musica che quella che all'epoca veniva definita musica kraut cioè una ripetizione di concetti psichedelici di minimalismo musicale reiterato fino quasi a una perdita di conoscenza che parte però da radici folca all'inizio i kraftwerk suonano ralph e florian anzi suonano strumenti che non sono soltanto macchini ma poi viene l'incontro con un altro dei grandi maestri eretici karl heinz stokhausen che è una parola che fa c'è un cognome che già di per sé è intima un certo rispetto ma lui è il grande maestro dell'avanguardia tedesca dell'avanguardia mondiale un uomo che ha spinto fino alle estreme conseguenze le possibilità di creazione ma anche di riproduzione musicale ricordiamo che stokhausen e l'uomo che venne invitato a un certo punto a produrre dei quartetti cioè una forma di composizione musicale se vogliamo tradizionale e lui indignato ma incuriosito decise di farlo peccato che lo realizzò su quattro elicotteri diversi cioè mise quattro disgraziati in quattro diversi elicotteri facendogli suonare viola violoncello li fece partire da un aeroporto e li fece suonare in contemporanea nonostante le difficoltà delle palle rotatorie che anzi con loro rumore dovevano entrare a far parte della composizione stessa e tutto a beneficio di pochi invitati in un hangar a terra che ricevevano i segnali ma anche le indicazioni stesse dei musicisti su questi quattro elicotteri che giravano in cielo ecco per darvi l'idea di che razza di personaggio sia stokhausen potete immaginare però quanto sia stato influente e quando sia stato influente la sua idea di lavoro sui sui craft versi stessi che a un certo punto abbandonano gli strumenti che così conosciamo e iniziano a suonare strumenti elettronici sintetizzatori sequencer tastiere che per lo più loro stessi contribuiscono come abbiamo detto a creare e a modificare e questo dove succede succede in un luogo che è una specie di sacro graal tempio dell'arca perduta della musica elettronica ma non soltanto i loro studi sono i cling clang studios di dusseldorf dove la dove i crafter si formano il cui indirizzo civico preciso è stato segreto per molto tempo fino a quando poi sono stati anche espostati un po più distanti nessuno sapeva con precisione dove fossero e questa era una cattedrale in cui un loft enorme pari in cui loro componevano musica e definivano ciò che erano loro stessi avevano un'etica di lavoro che durava dalle 8 alle 10 ore giornaliere ma soprattutto non volevano essere disturbati non potevano essere disturbati per dargli un'idea se tu volevi contattarli ammesso che loro fossero interessati a avere una comunicazione con te o con qualsiasi essere umano tu dovevi prendere accordi magari con il management o se avevi la fortuna di avere un contatto direttamente con loro e dire questo che avevi bisogno di parlare loro con loro e loro ti avrebbero chiesto esattamente quando tu avresti chiamato cioè tu dovevi fare una roba di questo genere dovevi parlare con schneider e dicevi ok chiamerò mercoledì pomeriggio alle 15 e 45 ma perché perché il telefono che c'era dentro i clinkland studios non aveva una suoneria perché la suoneria avrebbe potuto disturbare il processo creativo dei craft quindi se tu avevi fissato quell'appuntamento mercoledì alle 15 e 45 a quell'ora precisa il telefono sarebbe stato alzato da schneider e lui presumeva che tu fossi dall'altra parte se così non succedeva se tu chiamavi un minuto prima un minuto dopo ciao la comunicazione era zerata e se pensate se questo sia che non vi basti per dare un'idea immaginate che in tempi più recenti i call play desiderarono campionare una parte di un pocket calculator di una loro canzone per anzi di computer love per x e y un loro disco però non sapevano bene come contattarli e allora fecero muovere loro management tutto e chiesero il permesso di poterla campionare quando ormai non avevano ricevuto nessuna risposta e immaginavo che nessuno le avrebbe più contattati un giorno gli arrivò un foglio di carta con scritto yes quindi ok i craft erano d'accordo ci avevano pensato e questo era loro modo di comunicare ok meraviglioso ma in realtà al netto di tutta questa anedottica come dire estremamente tedesca che esalta l'ubermensch tedesco quasi niciano loro sono degli straordinari musicisti e questo è evidente perché tutti li conosciamo ma ciò che andrebbe specificato è quanto loro siano stati influenti lo siano ancora determinanti nell'elaborazione di un concetto di musica elettronica comunicativa cioè loro limano all'osso un processo quasi alla raimond carver ciò che carver fa la letteratura cioè scava all'osso e ogni suono è puro sintetico creato appositamente per dare quell'effetto ed è al servizio comunque di una musica che nel tempo è diventata pop e loro lavorano otto dieci ore al giorno ed elaborano dei concetti sui quali appoggiano la musica uno fondante è quello di autobahn che è un album che intende replicare l'idea di questo grande scorrere sulle autostrade tedesche quindi i suoni ti portano un flusso continuo un flusso che probabilmente non ha fine e loro questo concetto decidono di elaborarli in maniera diversa anche perché a un certo punto si preoccupano dell'idea che possono dare questo eccesso di germanità e si ricordano che quelle autostrade in realtà esaltate per un'idea di suono senza fine continuo endless sono le autostrade che hanno costruito i nazisti negli anni 30 in germania e loro preoccupati da un'idea di germania ancora opprimente decidono di trasportare questo concept della musica autostradale sui treni soprattutto su un treno il treno che solta tutta l'europa il tii il trans europe express l'idea gli viene soprattutto gli viene come dire suggerita da un giornalista che è paolo alessandrini un giorno che lui insieme ai crafter si trova alle tremble che è una caffeterie sulla gare de lyon parigina e già questa è un'immagine straordinaria di per sé loro stanno pranzando lì e sono affascinati dall'idea di arrivi e partenze dei treni della gare de lyon e allora alessandrini gli suggerisce dice ma perché non trasportate quel concetto di autostrada all'autobahn nei treni anch'essi su binari ipoteticamente senza fine loro ci pensano un po' come sempre non so se mandano un foglio a pole con scritto semplicemente yes ok ci è piaciuto però decidono di trasportare questo concetto e questo che che elaborano sia l'album ma il pezzo proprio trans europe europe express è una sorta di poema sonico per l'europa per un concetto di europa che va rifondato ricordiamo che non siamo così distanti dalla guerra siamo nel 1976 e il concetto di germania di ciò che significa essere tedeschi è ancora complicato loro diranno che dopo la seconda guerra mondiale in realtà non esisteva una musica pop tedesca e quindi anche i crafter nella loro adolescenza nel loro quando erano bambini avevano a che fare con le musiche della repubblica di weimar con la tradizione tedesca non con una musica pop che l'europa invece all'epoca già aveva in condivisione e quindi decidono che quella che la loro musica elettronica deve essere una musica tedesca al servizio di un europa a un concetto di un europa che comunque un europa culturale che un europa che che svetta sul resto del mondo per il suo retaggio culturale per ciò che ancora può dire è un ode sonico un poema ed è un poema fatto da macchine da quelle macchine che loro hanno come detto prima ideato ma che continuano a padroneggiare che invitano a suonare loro stessi in quel concetto appunto esemplificato dai robot e dall'essere umano e allora questa 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 canzone che in realtà il tema portante dell'album omonimo di trans europe express viene elaborato su un uno strumento musicale che ha un nome già straordinario che devo leggere perché non memorizzo mai che il sintanorma sequencer mit intervallomat ecco è bellissimo ci sono quelle parole meravigliose che solo la lingua tedesca poi in realtà e qui si tratta semplicemente di un accento tedesco rende un concetto superiore quasi filosofico e allora dovete immaginarli in queste otto o dieci ore di lavoro costante all'interno di quei studi di quegli studi sconosciuti ai più di cui nessuno conosce il vero indirizzo civico con le mani sopra questo sequencer questo questo strumento che elabora ciò che loro desiderano c'è una melodia circolare un'idea che dia proprio la sensazione di questo treno che attraversa l'europa e che all'interno loro cantano cantano delle cose che sono molto precise lo faranno anche in tedesco ma diciamo nella nella lingua universale europea inglese lo fanno con un meraviglioso accento che dice passiamo da un rendezvous alle champs elisee a un caffè a vienna a tardanotte questa è letteratura semplicemente è letteratura in chiave sintetica e a un certo punto dicono da stazione a stazione per incontrare iggy pop e david bowie e questa è meta musica cioè proprio in questa semplice fase ci raccontano e ci dicono cosa sta succedendo intorno a loro esattamente in quel momento in quel momento david bowie si è trasferito a berlino è in un periodo estremamente complicato ma anche dal punto di vista creativo straordinario e con lui c'è iggy pop quell'iggy pop che lui ha salvato dagli stugis tutti hanno problemi di droga dalla quale vogliono scappare sentono ancora l'oppressione forte la minaccia anche non soltanto fisica ma psicologica del muro la divisione di berlino fra la berlino ovest e la berlino est e all'ombra di quel muro compongono dei dischi straordinari basti pensare a heroes di david bowie al meraviglioso low uno dei dischi più influenti in realtà per tutto ciò che accadrà dopo dalla new wave da i joy division fino alla musica ambient e c'è iggy pop col suo last for life e di idiot e loro li respirano quell'aria tedesca e si incontrano letteralmente coi crafter che ne parlano e loro i crafter decidono che quella quelli istantanei di questi grandi geni musicali che si ritrovano in germania una germania che finalmente esce appunto da quello scenario semplicemente bellico ma torna a prendere il possesso della sua della sua importanza culturale non soltanto europea ma mondiale decido di inserire questo passaggio nel transit europe express in questo treno che non si ferma ecco ma poi tutto ciò in questo estremo rigore intellettuale ha sempre dei risvolti buffi cioè andando a leggere le cronache diciamo dell'epoca si scopre che loro si incontrano davvero e poi andarono a fare la spesa addirittura pare che comparano degli asparagi io non so se è questo mi piace pensare che lo sia immaginare che veramente hutter e schneider con iggy pop e david bowie vadano da qualche parte non solo in un mercato di koretsberg comprano gli asparagi e poi si consultino sulle ricette magari crafter mandano semplicemente a bowie un foglio con scritto sì facciamoli con l'uovo che suonano meglio ma queste sono scemenze in realtà per quello che conta e l'idea che all'interno di una canzone non sempre succede si parli di una scena musicale non è soltanto una celebrazione di ciò che sta avvenendo ma è una fotografia netta e precisa di un'elaborazione creativa ecco tutto questo sempre con una canzone che si basa su una semplice reiterazione su un minimalismo come diciamo prima è limato all'osso e diventa estremamente potente i craftwork diventeranno dopo dopo questo disco appunto passeranno poi a me machine quello che li renderà dei robot replicanti che vanno in giro a promuovere il proprio disco e avremo la fortuna di vederli poi ancora ancora in tour la loro musica diventa fondamentale per tutto ciò che arriverà dopo per la tecno per l'hip hop che addirittura nei campionerà nei campionerà dei pezzi loro esaspereranno il concetto di uomo macchina poi in tour de france un disco che arriverà dopo e che rivelerà la passione soprattutto di art di hutter per per il ciclismo una passione sfrenata che lo porta sia a conoscere tutti i tempi di tutte le tappe ma anche il desiderio di replicare le tappe una dietro l'altra seguendo il tour in una di queste avrà un incidente e andrà addirittura per un certo periodo in coma poi ne verrà fuori e proprio in quell'album elaboreranno non soltanto l'uomo macchina ma anche l'uomo bici cioè l'uomo sempre le pulsazioni cardiache e ingranaggi della bici in un costante inseguirsi fra ciò che è umano e organico e ciò che invece è macchina e alluminio ma trans europe express e il brano che meglio sintetizza tutto ciò che è l'etica dei craft l'etica del lavoro e il pensiero filosofico molto tedesco che ci sta dietro e per concludere dicevamo che a un certo punto si parla di david bowie e si dice da stazione a stazione per incontrare david bowie ecco stazione stazione station to station è un album di david bowie esattamente dello stesso anno c'è del 1976 che testimonia come ci siano sia un osmosi creativa tra questi questi giganti che all'epoca si trovano in germania station to station un altro disco che stilizza il funk in versione bianca e che lui presenterà david bowie presenterà prima ancora di pubblicarlo negli spezzoni in cui suona dal vivo in un altro in un film durissimo ma estremamente emblematico di quegli anni che era cristiane f noi i ragazzi dello zoo di berlino in questa estetica se vogliamo terminale estremamente dura che contraddistingue tutte le creazioni di quel momento a chiudere visto che abbiamo parlato dei clinkland studios e di quel telefono che squilla che non squilla anzi ma che richiede un appuntamento e del foglio con scritto yes ai colplay c'era dire che bowie a quanto pare fu l'unico a quali crafter fornirono l'esatto indirizzo dei clinkland studios però a quanto pare non esisteva un campanello quindi questo non è dato sapere ma mi piace immaginare che sia così probabilmente nonostante al loro amico dell'epoca che le aveva influenzati al grande artista david bowie è possibile che a gutter e schneider abbiano detto vuoi venire a trovarci quando pensi di venire giovedì va bene allora noi alle 17 45 apriremo la porta e probabilmente così hanno fatto hanno aperto e hanno detto prego bowie entra pure quindi questa storia è inedottica ma è soprattutto la celebrazione di una grande idea musicale e di un grande stile di musicale creato da un gruppo che ha fatto letteralmente la storia la storia di una musica sintetica fatta da uomini che suonano macchine e macchine che a loro volta suonano gli uomini grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti